Fatevi una serata tranquilla, mentre il sole tramonta all'orizzonte, il calore della giornata si dissipa lentamente. Red Kanzian, il volto storico dei Pooh, si prepara a svelare i capitoli della sua incredibile vita, quelli che raccontano di amicizie profonde, trionfi inaspettati e un innato spirito di resilienza. Ma c'è un nome che ritorna costantemente nei suoi pensieri, Stefano Dorazio. Un amico, un fratello, un'anima fine che, fino al 2020, condivideva con lui confidenze e risate sincere. Era impossibile crederci. Riflette Red con commozione, il Covid è stato l'ultimo colpo. Ma lui rimane una presenza nel mio cuore, come un libro prezioso di ricordi condivisi. Avvolgente è la narrazione della sua vita matrimoniale con Beatrice Niederrieser, compagna di un viaggio lungo 25 anni. Una crescita a volte inconsapevole, ammette Red, con il desiderio di replicare quei momenti magici. E come non menzionare l'emozione del diventare nonno, un ruolo, che rivendica, con orgoglio mentre osserva il nipote Gabriel. Un prodigio di fantasia e creatività. Volgiamo uno sguardo al passato, agli umili inizi, in una villa veneta in cui la felicità non era misurata in ricchezza, ma nell'amore familiare ricevuto. Ricorda suo padre, un uomo dal cuore grande che lo accompagnerà sempre, nei gesti e negli insegnamenti silenziosi. Mentre la madre, orgogliosa della carriera di Red, combatteva i suoi demoni personali, un esempio di forza e fragilità umana. Alla fine dell'intervista, mentre le luci dello studio si attenuano, Red condivide un'ultima riflessione. La vita è una sorprendente avventura, non un rompicapo da risolvere. E nel suo viaggio tra palchi e legami indissolubili, la musica ha sempre rappresentato quella via di fuga, quel porto sicuro nei momenti più bui persino con aghi e ossigeno al seguito. Una testimonianza di resilienza e passione che continua a ispirare.